carissimi amici e amiche siamo tornati finalmente al ciclo di catechesi bibliche sull'antico testamento che abbiamo lasciato un po di tempo fa con la storia dei giudici brevissimamente cerco di ricontestualizzare un po perché per quanto questo ciclo di catechesi come sapete io mi pure vergogno un po si è molto sintetico nel senso che ha carattere proprio introduttorio diciamo così ai personaggi dei libri perché per fare un ciclo di catechesi come dire come dio comanda sull'antico testamento bisognerebbe che ne so a programmarsi almeno per dieci anni e tra l'altro con almeno una frequenza settimanale ma neanche si farebbero le cose fatte bene perché è un mare veramente enorme quindi ribadisco che questi poverissimi incontri che mi pure vergogno un po nel senso che che sono una come dire una riduzione molto molto grande ecco di questo patrimonio veramente proprio una una specie di 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 mordi e fuggi no di di dare un piccolo antipasto e poi sperando che qualcuno poi gli venga voglia di di andare a mangiare perché è veramente tanta roba e abbiamo visto fino ad adesso brevemente la parte essenziale del pentateuco cioè la genesi racconti della creazione il peccato originale il diluvio la storia di abramo di sacco di giacobbe già lì in maniera sintetica di giuseppe quindi poi la discesa in egitto siamo già nel libro dell'esodo la storia di mosè l'uscita dall'egitto e poi saltando il libro del nevitico che è veramente molto complicato e qualche tipo di numeri siamo andati al deuteronomio che ci ha introdotto poi alla morte di mosè e all'ingresso anche la lettura sapienziale della vicenda di israele nel popolo di israele nel deserto e poi abbiamo cominciato il libro di giosuè quindi con la conquista della terra promessa la presa di gerico la presa di ai eccetera eccetera no concludendo con l'assemblea di sicem quindi dove il popolo di israele decide all'ingresso nel momento in cui stavano spartendo le il territorio tra le 12 tribù di israele o meglio la tribù di levi non c'aveva un territorio perché la tribù di levi si occupava del del servizio del culto prima nel tabernacolo poi nel tempio quando sarebbe stato costruito lo vedremo tra poco perché quando arriveremo a salomone vedremo la nascita del tempio di gerusalemme abbiamo visto che subito dopo giosuè c'è un tempo in cui il popolo di israele e come dire viene detto direttamente c'è una vera teocrazia se si vuole un termine tecnico salvo il fatto che il signore suscita delle anime degli uomini e delle donne abbiamo visto per esempio debora con il compito di essere giudici quindi dei personaggi che hanno il ruolo o di dirimere le questioni o soprattutto di liberare specialmente l'abbiamo visto con sansone con gedeone israele dai nemici cosa che sistematicamente accade l'abbiamo visto come come una sorta di di sacro mantra no la volta scorsa israele ricominciò a fare ciò che è male agli occhi del signore e allora il signore li mise in balia prima di quelli poi di quell'altro e poi di filistei e poi israele grida a dio e dio manda un giudice per liberarli si va avanti così terminato il ciclo dei giudici si arriva come vedremo oggi a samuele quindi nel frattempo abbiamo visto il libro di giusue e il libro dei giudici oggi cominciamo il primo e il secondo samuele di cosa si parla nel primo e secondo samuele della storia di samuele anzitutto ma poi anche della storia di davide e scusate di saul di davide e di salomone i primi tre grandi re della storia di israele quindi comincia il tempo dei re quindi primo e secondo samuele e primo e secondo libro dei re quindi compariranno davide salomone prima di loro saul e poi nel libro dei re anche il ciclo di elia quindi questo è ciò che ci attende dopo i libri dei re ci sono i libri delle cronache che non affronteremo perché anche lì è tutta la storia di ciò che accade in israele solo qualche piccolo cenno introduttorio credo che invece ci fermeremo un po sempre a proposito dei libri storici sui libri dei maccabèi che sono quelli più recenti e che narrano dell'ultima parte ricordate sempre qui purtroppo amici c'è una catechesi precedente ci dovrebbe essere anche un pdf dove c'è la storia di israele no perché l'antico testamento segue la storia e israele conobbe diversi tipi di oppressione quindi prima gli assiri che distrussero come vedremo il regno del nord e quindi con capitale samaria poi babilonesi poi persiani e poi di alessandrini alessandro magno e loro successori e poi alla fine romani questo regno di israele quindi è andato ha avuto parecchie tribolazioni diciamo così questo è un pochino il quadro pregresso e che ci attende sono stato bravo mi si perdoni soltanto in sei minuti quindi possiamo subito cominciare adesso con le cose nuove allora la comparsa di samuel samuel è un personaggio del tutto particolare fa parte di quelli che potremmo definirli gli antenati dei profeti personaggi carismatici suscitati dal signore ma che ancora non si possono noverare tecnicamente tra quelli che sarebbero stati i profeti anche con il primo grande profeta maggiore è isaia anche se anche isaia ha avuto un predecessore questo però sì che viene come dire annoverato un po come il prototipo l'antenato del profeta che è elia prima c'erano tutta quanta questa serie di personaggi che in parte con qualche punto di contiguità insomma per quanto riguarda la 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 chiamata quindi diciamo il il carattere un po carismatico lo chiameremmo noi giro che vengono suscitati dal signore per uno scopo ben preciso samuel come vedremo avrà proprio il compito di ungere il primo re e anche il secondo re che congerà anche davide e non solo questo nella slide pdfizzata se si può usare questo termine che è orribilissimo che mi ha venuto appena in mente trovate con una brevissima ecco introduzione ai primi passi di samuele anzitutto la nascita miracolosa da anna vedremo chi era anna chi era il papà di samuele e preannuncio subito che la nascita di samuele soprattutto la reazione di anna e il cantico di anna la nascita di samuele è presente non pochi punti di contiguità con un cantico ben più grande e da parte di una creatura ben più grande di anna mamma di samuele anche se aveva la mamma sua che si chiamava anna cioè maria santissima e la sezione in cui vedete samuele si mette a fare vedete una figura di 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 raccordo non poi giudice un po profeta fa un po le funzioni che svolgevano i giudici un po quelli che avrebbero molti profeti e poi eh il popolo adesso questo è un passaggio probabilmente fondamentale chiave si mette in testa fa fa il capriccio che vuole essere come tutti tutti i giorni di samuele vogliamo lo vogliamo anche noi e vedremo poi quello che succede ovviamente come sempre faccio una lettura sintetica però è una una lettura sintetica catechetico attualizzante perché eh la cosa importantissima quello che vorrei insomma provare a suggerire eh cosa che cerco di fare anche sempre durante l'omiletica no è che nella rispetto nella fedeltà ovviamente nel testo però dobbiamo trarre degli insegnamenti attualizzanti per noi perché la parola di dio non è stata fatta semplicità stata data per raccontare delle storielle anche o o può per narrare dei fatti storici come in questo caso ma per il nutrimento della nostra anima per l'edificazione quindi la parola di dio ha la capacità quando uno riesce a entrarci un po in sintonia di parlare sempre al nostro cuore e agli uomini di ogni luogo e di ogni tempo purtroppo noi non siamo molto come dire a introdotti alla alla teologia biblica alla alla capacità di saper pregare con la sacra scrittura pregare che significa si prende il testo della sacra scrittura come se fosse un testo di meditazione quindi lo si ascolta ci si ci si diflette un pochino sopra e dopo ci si comincia un pochino a che cosa mi sta dicendo questa cosa a prima in un contesto di meditazione e poi nel dialogo personale a cuore a cuore con dio e addirittura come la meditazione dovrebbe sempre terminare con affetti e suppliche e propositi bisognerebbe pregare così con la sacra scrittura quindi questi sono dei semplici tentativi ora diamo passiamo adesso cambio come sempre un attimo di pausa perché cambio sovraimpressione e andiamo a vedere i testi una lettura un pochino ecco come sempre un pochino sintetico veloce quando poi arriviamo qualche punto culminante ci fermiamo e facciamo qualche considerazione utile spero per la nostra vita spirituale solo un istante che ok ok bene ci troviamo i testi come al solito ci abbiamo per l'antico testamento ci manca la vulga no ci abbiamo come sempre ci mettono il testo ebraico a fianco il testo della cei del 2008 poi il testo della 70 testo della vulgata e il testo dell'antica traduzione della cei del 74 allora qui c'è la c'è la nascita no io ho evidenziato in questi primi capitoli qualche 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 passaggio così scorrendolo per chi segue il video un pochino più facile non perdersi no e allora chi era il papà di samuele un uomo di ramataim un sufita delle montagne di efraim chiamato el cana aveva due mogli una chiamata anna l'altra peninna peninna aveva figli anna non ne aveva quindi vedete quando dio vuole fare qualcosa di di grande comincia sempre da una posizione la sterile che partorisce l'abbiamo già visto con sara mose tanto per fare un pochino di di che doveva essere morto perché è stato preso nelle nelle acque per 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 miracoli personaggi che abbiamo un pochino già visto no ora quest'uomo saliva ogni anno dalla società per prostarsi e sacrificare al signore degli eserciti di asilo dove erano due figli di elio offni e finies sacerdoti del signore elio è una figura importante perché vedremo che elio sarà l'intermediario della 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 scoperta da parte di samuele della la propria vocazione venne il giorno in cui el cana offri il sacrificio ora egli su deve dare alla moglie peninnaia tutti i figli e le figlie di lei le loro parti ad anne invece dava una parte speciale perché gli amavano sebbene il signore ne avesse reso sterile il grembo verbo per dire che l'amava è proprio il verbo della dell'amore no ahav è proprio l'amore e l'amore lo stesso verbo che viene usato nello scema israele ahav ta etadona eloheha amerai il signore tuo dio no questo qui ahav sebbene il signore ne avesse reso il grembo vedete il grembo rachemah da cui i rachamim le viscere no le viscere di misericordia di cui la segra scrittura parla per israele va bene o che cosa succedeva che questa peninna la sua rivale anziché avere compassione di questa polla disgraziata che non ci aveva figli però siccome aveva probabilmente si era accorto che il canale era un debole per Anna l'affliggeva con durezza a causa della sua umidazione perché il signore aveva reso sterile il suo grembo così avveniva ogni anno mentre saliva alla casa e il signore quello la mortificava allora Anna si metteva a piangere non voleva mangiare così si vedano allora la facciamo breve adesso a un certo punto Alca e Anna salta un pochino perché se no non riusciremo ad andare spediti fa questo voto signore degli eserciti se vorrei considerare una misera della tua schiava e ricordarti di me se non dimenticherai la tua schiava e darei alla tua schiava un figlio maschio io lo offrirò al signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo quando sentiamo dire il rasoio non passerà sul suo capo ricordiamo anche la storia di Sansone vuol dire questo è un nazireo cioè un consacrato al signore anche San Giuseppe quanto sappiamo faceva parte il nazireato è stata una istituzione molto molto prolissa nel corso del tempo nella storia di Israele e il signore ascolta questa preghiera nonostante che siccome lei pregava senza senza muovere senza parlarmi ma muovendo soltanto le labbra è lì qui nella sezione successiva sto scorrendo lentamente così può dare un'occhiata pensa che questa moglie sia ubriaca no? dice no guarda non sono ubriaca ma ho parlato al signore nell'eccesso del dolore e della mia angoscia allora giorno dopo si alzano la parte evidenziata tornano a casa e il canà si unì a sua moglie ecco qua è bellissimo no? il signore si ricordò di lei ecco qua vi ricordate questa la bellezza della saga scrittura no? quando il grido di Israele sale a Dio nell'Esodo e il signore si ricorda se ne prende pensiero bellissimo no? il verbo ebraico zakar proprio ricordarci no? ricordati di noi signore nell'automice ricordi è chiaro che non è che Dio si è scordato e si ricorda no? dire che il signore si ricorda vuol dire semplicemente che volge l'attenzione su di noi no? c'è un bellissimo passo dei salmi che dice al tuo nome e al tuo ricordo si pogge tutto il nostro desiderio è bellissimo no? quando noi amiamo qualcuno e diciamo ricordati di me e non ti dimenticare di me oppure siamo molto contenti quando qualcuno si ricorda di noi no? si è ricordati io a volte con la mia cosa faccio certe brutte figure che se no la persona magari che ho visto dieci anni fa e dice se ricordo che non ero solo uno a trovarlo quando stavo a Borgo San Michele e dico facci picchia guarda dico mi dispiace non è che non ti penso insomma però purtroppo con tutte le cose che ho per la testa e tutte le le persone che incontro a volte la memoria non mi assiste ahimè ecco quindi quando qualcuno si ricorda di noi siamo molto contenti no? quindi questo lo sappiamo e insomma alla fine Samuele nasce e appena nato chiaramente Anna lo svezza e lo porta con sé a Silvio e lo porta a Eli dice guarda che questa io sono stata qui ero quella donna che è stata qui a piangere ho pregato il Signore e mi ha concesso la grazia che ho richiesto ecco adesso io lascio che il Signore lo richieda perché per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore attenzione questa è la traduzione nuova della 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 cei no? c'è il verbo sha'al che in effetti il verbo sha'al significa letteralmente proprio significa proprio chiedere no? quindi sha'al è è chiedere quindi perché è è chiesto al Signore no? quindi è la vecchia traduzione traduceva con ceduto al Signore no? ma siccome io gliel'ho offerto al Signore ora sicuramente il Signore lo chiede e quindi io gliel'ho do e si prostano davanti al Signore e Anna pronuncia il suo cantico questo è bene dargli un'occhiata perché ripeto non mi fermerò troppo ma c'ha tanti punti di contatto con il Magnificat no? il mio cuore esulta nel Signore no? vatif pallel Hannanna la alatz livi ba'adonai ricorderemo il mio spirito esulta in Dio mio salvatore no? la mia forza si innalza grazie al mio Dio si apre la mia bocca contro i miei nemici perché io gioisco per la tua salvezza il mio spirito esulta in Dio mio salvatore la mia magnifica il Signore quindi qualcosa di simile alla mia forza si innalza grazie al mio Dio d'ora e poi tutte le generazioni mi chiameranno beata io giurisco per la tua salvezza santo è il suo nome e Anna dice non c'è santo come il Signore non c'è roccia come il nostro Dio non moltipliare discorsi superbi no? approvesciati e a dispersi i superbi nei pensieri del loro cuore dalla vostra bocca non esca arroganza perché il Signore non Dio che sa tutto eccetera eccetera l'arco dei forti si è spezzato arrovesciati potenti dai troni ma i deboli si sono rivestiti di vigore ha innalzato gli umili ecco i salzi si sono anduti per un pane hanno smesso di farlo gli affamati ha ricolmato di bene gli affamati sto ecco no? la stella l'ha partorato sette volte e la ricca di figli e sfide adesso attenzione a questo passaggio qui non c'è soltanto la teologia ebraica l'abbiamo già accennato qualche volta quindi gli ebrei l'Antico Testamento non distingue tra causa prima e causa seconda quindi attribuisce le cause tutte le cose a Dio ricorderete quando vedevamo che il Signore indurì il cuore del Faraone quindi il Signore non è che indurisce il cuore del Faraone nel senso che come dire lo induce al mano permise che il cuore del Faraone fosse indurito per manifestare la sua gloria cioè è chiaro che Dio anche per noi è la causa prima di tutte le cose ma con il concorso delle cause seconde però qui dobbiamo riflettere il verbo è sempre vi ricordate credo che avevo già parlato nelle cariche sull'Antico Testamento gli ebrei hanno una forma verbale che noi non abbiamo che è quella causativa che si chiama tecnicamente l'ifil quando si trova un verbo l'ifil per esempio questo che è evidenziato è mut che significa morire ma questo è un participio maschile i fil memit significa far morire quindi causativo quindi il signore fa morire adonai memit e fa vivere questo è hayah che è vivere anche questo è un participio questa volta piel scendere dagli inferi di nuovo unifil sheol e di nuovo unifil risalire ancora il signore rende povero di nuovo unifil e arricchisce di nuovo unifil abbassa di nuovo unifil ed esalta questo è una forma verbale un po' particolare di rom che è un polel che è una forma verbale un pochino particolare allora attenzione attenzione si capisce per esempio e questo Anna l'ha vissuto su di sé chi è che era stato in qualche modo causa del fatto che lei poteva avere figli che veniva umiliata in continuazione è stato il signore sì è stato il signore perché questa sua diciamo pregressa umiliazione era la preparazione per la sua esaltazione per il grande dono che aveva avuto la storia biblica racconta sempre ecco perché non dobbiamo fare la nostra che le situazioni di morte di sofferenza anche le più veramente penose sono permesse da Dio o disposte in certi casi addirittura sempre per un bene maggiore bisogna avere pazienza perché a volte quel bene arriva molto in avanti pensiamo per esempio al caso del vecchio anziano Simeone era stata una vita ad attendere il Messia e poi l'ha visto poco prima di morire allora questa è la nostra grande fede no? chi è testimone di queste cose? sui passi dei suoi fedeli è liveglia più che fedeli attenzione questi sono gli assi dei sui passi degli assi dei cassid questi non sono semplicemente i fedeli questi sono questi sono i scusate i i devoti quelli quelli che 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 proprio sono votati a Dio i cassid sarebbe stato un gruppo molto molto importante ai tempi dei macchiavei quindi lui veglia sui passi degli assi dim cioè di quelli che gli sono proprio devoti di quelli che gli vogliono bene ishmor conosciamo già questo verbo ishmor custodire shamar quindi custodire vegliare guardare con attenzione preservare ma i malvagi i rashah i reshaim bachoshech nella tenebra i dammo periscono nelle tenebre più che tacciono era meglio la 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 traduzione antica nel latino c'ha eh contitescent cioè qui è uno sparire nel senso di rimanere inattivi e rimanere eh avvinghiati senza scampo nelle tenebre ancora con la sua forza l'uomo non prevale il signore distruggerà i suoi avversari no arrovesciati i potenti tetroni ha innalzato gli umili ha rimandato i ricchi a mani vuote questo è tutto quanto la teologia del magnifica no si per giudicare l'estremità della terra dalla sua forza e innalzerà la potenza del suo consacrato è bellissimo questa cosa qua il signore distruggerà i suoi avversari attenzione che sono proprio i loro nemici eh quindi coloro che contendono con lui il signore e il verbo è proprio forte eh hatat proprio distruggerà proprio li proprio non soltanto li distruggerà ma li farà morire di spavento li farà li terrorizzerà cioè questo è un verbo che si usa anche in circostanze abbastanza come dire abbastanza violente insomma no quindi terrificanti allora oh e e Cana torna a rama e invece Samuele rimane alla presenza di Eli insieme agli altri figli li abbiamo già visti prima che erano già sacerdoti ora questi figli di Eli erano uomini perversi non riconoscevano il signore che facevano quando qualcuno andava ad offrire i sacrifici prendevano e si rubavano facevano un antefatto di quello che sarebbe è stato il peccato di simonia come qui viene spiegato nei versetti 14 eccetera il peccato di quei servitori era molto grande davanti al signore perché di solo avrò l'offerta del signore Samuele invece prestava servizio davanti al signore come servitore cinto di efodo di lino sua madre gli preparava una piccola veste e gli la portava ogni anno quando andava con il marito a fare il sacrificio rituale Eli allora ben diceva il cane e sua moglie diceva di concedere al signore altra proie da questa donna in cambio della richiesta fatta al signore e il signore che cosa fa visita Anna che concepisce e partorisce ancora tre figli e due figlie quindi non soltanto il grande il grande Samuele che poi bastava pure solo lui ma altre tre più due quando il signore entra in azione non è che riscala il signore strafa esagera sempre no? in senso buono ovviamente oh intanto Samuele cresce e Eli era molto addolorato e Eli era molto addolorato desti figli che facevano queste cose qui dice ma che razza dei figli c'ho che anziché servire il signore abusano del loro servizio per ingrassarsi la panza perdonatemi il termine un po' non francese ma molto romano io sento che tutto il popolo parla di vostre azioni cattive se un uomo pecca contro un altro uomo Dio potrà intervenire in suo favore ma se l'uomo pecca contro il signore chi potrà intercedere per lui mamma mia magari ce lo ricordassimo oggi oggi dove si parla sempre troppo spesso troppo sì sono tutti quanti d'accordo sui peccati contro l'amore del prossimo ma chi parla dei peccati contro Dio tutto quello che fanno al nostro signore come lo mettono in mezzo alla strada dalla mattina alla sera le messe dimenticate le comunioni sacrileche le confessioni ridicolizzate la gente che non adora il signore non rispetta il giorno del signore ai negozi aperti di domenica maghi cartomanti superstizioni idolatrie ateismi chi più ne ha più ne vinta e attenzione a questo passaggio un po' inquietante non ascoltarono la voce del padre perché il signore aveva deciso di farli morire attenzione a non interpretare malamente questa cosa qui cioè qui c'è il misterium iniquitatis il misterium iniquitatis è questo qui che la volontà purtroppo umana si può a un certo punto indurire e per cui cessano le possibilità di salvezza attenzione non perché Dio non vorrebbe salvarti ancora ma perché la volontà si è indurita si è indurita è molto difficile stabilire quando questo accada ma la volontà si indurisce noi adesso abbiamo nel nuovo testamento un peccato contro lo spirito santo per l'ostinazione nel peccato questo è un evidente caso di ostinazione nel peccato perché questi facevano queste cose orribili non sentivano nessuno un giorno venne un uomo di Dio da aeree e gli disse così dice il signore non mi sono forse rivelato la casa di tuo padre mentre ero in Egitto in casa del faraone dice io guarda che io ho scelto da tutte le tribù di Israele come mio servitore un sacerdote perché salga all'altare e bruci l'incenso e porti l'effetto davanti a me dice perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte rivolte ai figli e attenzione io avevo detto alla tua casa e alla casa del tuo padre che avrebbero sempre camminato alla mia presenza ma attenzione ora non sia mai qui c'è Edi che mi sconosce perché chi mi onorerà anch'io lo onorerò e chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo e quindi dopo che nello stesso giorno Ofni e Fine smorriranno tutti e due farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e il noanimo gli darò una casa stabile e camminerà davanti al mio consagrato per sempre ma qui già si staglia un tema che poi ricorrerà perché la stessa cosa succederà con Saul e Davide stessa identica cosa sacerdoti indegni sprezzanti di un dono di Dio lo trasformano in un veleno ripudiati dal Signore e sostituiti con uno più degno ricordiamo questo è un pre quello questo qui perché con Saul e Davide va a succedere esattamente la stessa ed identica cosa ora vocazione di Samuele il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli la parola del Signore era rara in quei giorni le visioni non erano frequenti qui c'è la storia famosa no? vedete le visioni non erano frequenti quindi le persone che stavano in contatto in questo contatto mistico statico carismatico con il Signore non c'erano tanti Eli stava dormendo al suo posto tutti i suoi occhi cominciavano in debolizia non riusciva più a vedere la lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore dove si trovava ancora l'arca di Dio allora il Signore chiamò Samuele la grande risposta quando chiamano il Signore eccomi poi corse da aere gli disse mi hai chiamato? eccomi attenzione guardate come c'è subito a notare il Signore chiama e lui va dal sacerdote a chiedere mi hai chiamato? se non ti ho chiamato torna a dormire il Signore chiama di nuovo Samuele si alza vada Eli mi hai chiamato eccomi non ti ho chiamato torna a dormire in realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore e negli era stata ancora rivelata la parola del Signore attenzione erano tanti anni che stava nel Tempio e non aveva ancora conosciuto il Signore gli fa pensare a qualcosa da tanto tempo sono con voi Filippo e tu non mi hai conosciuto ricordate no? Signore mostraci il Padre e ci basta discorso di addio Vangelo di Giovanni da tanto tempo sono con voi Filippo e tu non mi hai conosciuto che significa? wei qui c'è Iada quindi Iada è la conoscenza bella significa questo è un'altra cosa che ci possiamo portare dietro proprio questa sera ho rinominato nella breve omelietta dei giorni fenari i praticanti non credenti chi sono i praticanti non credenti? sono quelli che stanno alla presenza del Signore ma non lo conoscono non lo conoscono non lo conoscono in senso Iada è la conoscenza personale è la conoscenza intima è quella conoscenza che inevitabilmente è una conoscenza amorosa perché comporta l'intimità e solo dopo che scatta questa scintilla questa conoscenza si comincia a ricevere la rivelazione della parola del Signore quindi a conoscere Dio se lo volete eccetera eccetera questo vale anche per noi eh Dio non ti si manifesterà ma se tu non hai fatto scelta di volerlo veramente conoscere di non accontentarti di quelle quattro cose che hai imparato al catechismo della prima comunione della cresima ammesso che se imparano ancora che non se imparano proprio più niente allora che succede il Signore torna ancora una volta a chiamare Samuele 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 per la terza volta e questi si alzò e corse di nuovo da Eli e allora che succede Eli comprende che il Signore chiama il giovane vedete anche qui guardate questo è un passo molto istruttivo anche per la direzione spirituale no e il discernimento vocazionale la gente pensa che si tratta di una cosa che avviene tra il direttore spirituale e il sacerdote tra il chiamato e il sacerdote non è così il rapporto è triangolare cioè il rapporto è tra Dio e l'anima il sacerdote svolge una funzione di riscernimento per dire guarda che è veramente il Signore che ti sta chiamando è veramente il Signore che ti sta parlando ma il rapporto cioè il sacerdote non è il sostituto l'alter ego dell'altissimo ma è colui che ti aiuta a metterti in contatto con lui o a riconoscere che lui si sta mettendo in contatto con te è un'altra cosa è tutta un'altra cosa cioè ci sono altri modi di fare la direzione spirituale amici proprio altri modi e su questo bisogna fare attenzione bisogna fare molta attenzione allora Eli disse a Samuele vattene a dormire e se ti chiamerà ancora dirai parla Signore perché il tuo servo ti ascolta è un grande direttore spirituale Eli Samuele andò a dormire al suo posto e venne il Signore ancora e lo chiamò come le altre volte Samuele Samuele parla perché il tuo servo ti ascolta allora signore di San Samuele è che io sto per fare in Israele una cosa che risionerà negli orecchi di chiunque lo dirà in quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa la cima a fondo gli ha annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha muniti per questo io giuro contro la casa di Eli non sarà mai estiata la colpa della casa di Eli né con sacrifici né con le offerte e qui attenzione a persone costituite in autorità e genitori l'opera ammonire i peccatori è un'opera di misericordia spirituale per noi dobbiamo evidentemente fare un passaggio perché qui la sua signora dice io faccio giustizia della casa di lui per sempre perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha muniti qui si avrebbe da sentire le pratiche del santo volato d'arza sui genitori come li faceva correre allora una persona costituita in autorità ha l'obbligo di ammonire cioè se tu c'è un amico che pecca tu non sei obbligato ad ammonirlo perché ammonire il peccatore è un'opera di misericordia spirituale ma se tuo figlio pecca tu lo devi correggere questo vale anche per noi poveri preti noi non possiamo esimerci dal perché come dice la sacra scrittura se tu profeta vedi qualcuno peccare non gli dici niente quello morirà ma della tua colpa chiederò della sua colpa chiederò conto a te ma se tu invece lo avverti e quello continua lui morirà ma tu sarai salvo noi non rispondiamo dei peccati altrui ma le persone costituite in autorità hanno il dovere di ammonire i loro sottoposti per distoglierli dal male evidentemente poi hanno il dovere ancora più grave di non indurli al male scandalizzandoli questo vale anche per i governanti tanto tanto che si è appena formato il governo questo vale anche per loro e ha voglia di dire stato laico o non stato laico cioè il bene è un fatto oggettivo tu puoi riconoscerlo o non riconoscerlo che eserciti l'autorità come vicaria perché tutti esercitano un'autorità come vicaria in nome di Dio per conto meglio di Dio quindi Samuele temeva di manifestare questa visione a Eli Eli chiamò Samuele e disse Samuele figlio mi rispose eccomi che discorso ti ha fatto il signore che ha detto lui parla perché tuo servo ti ascolta non tenermi nascosto nulla così io faccio a te anche di peggio se mi nasconderai una sola parola allora Samuele svelò tutto e non tenere nascosto nulla e disse vedete anche l'umiltà di questo uomo e il signore faccia ciò che a lui fare bene e attenzione adesso Samuele crebbe il signore fu con lui ecco una cosa meravigliosa ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole questo ce lo gustiamo in ebraico allora Samuele crebbe Samuele vedi che dal e il signore era con lui fu con lui non fu era con lui era una presenza stabile che l'accompagna durante la vita quando il signore è con noi se lì è con noi dice San Paolo chi sarà contro di noi velo e lui però i fil guarda un po' questo è si pronuncia non i fil i fil il verbo è nafal estalli fil nafal significa cadere non fece cadere Mikol Debarav Erza allora non fece letteralmente non fece cadere nessuna fra tutte non fece cadere a terra fra tutte della sua parola sarebbe letteralmente quindi non fece cadere a terra nessuna parola cadere a terra cioè si può tradurre evidentemente come traduce la 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 non fece non lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole ma vedete la 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 vulgata che traduce letteralmente San Girolamo è sempre il numero uno et non ceci di te ex omnibus verbi seos interram non cadde da tutte quante le sue parole sulla terra non cadde nulla da tutte quante le sue parole sulla terra e qui questo è un altro monito per noi cioè le grazie di Dio non vanno spregate è un delitto immenso perché quando si spregano le grazie di Dio sono guai grossi perché oltre a solo una ingratitudine immensa c'è anche un problema che poi il nostro Signore le prende e le dà a chi le fa a fruttificare riscontro neotestamentario parabole dei talenti e delle mine toglietegli il talento e datelo a chi ne ha dieci ma ne ha già altri dieci a chi ha sarà dato a chi non ha sarà tolto anche quello che ha ora Samuario comincia a fare il giudice e il profeta chiaramente questa è una cosa che non possiamo vedere dobbiamo andare di corsa almeno introdurlo Saulus pensavo di andare un pochino più avanti e al capitolo ottavo dove si parla e dobbiamo leggercelo perché qui abbiamo Saul primo re di Israele allora quando Samuele fu vecchio qui sotto la quinta attività stabili giudici di Israele i suoi figli quindi lui ha fatto un po' il giudice e un po' il profeta il primo genito si chiamava Joele il secondo genito Abbia erano i giudici e i figli di lui però non camminavano sulle sue orme guarda un po' che si mettano a fare le stesse cose che facevano i figli di Eli perché deviavano dietro il guadagno accettavano regali e stravolgevano il diritto quindi si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama gli dissero tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice come avviene per tutti i popoli attenzione come fanno tutti perché non dobbiamo fare come noi perché perché non dobbiamo essere diversi vogliamo essere uguali a tutti vogliamo il re pure noi agli occhi di Samuele la proposta dispiacque perché avevano detto dacci un re che sia nostro giudice ma evidentemente a Samuele gli dispiacque non certo perché volevano il re al posto dei suoi figli perché lo sapeva che i figli non erano tutto sopra anche ma perché se ci fosse stato un re sarebbe finito quel tempo in cui il popolo di Israele è andato avanti senza un re perché chi lo governava dall'alto era il signore e poi c'erano i suoi luogotenenti ma non una vera e propria monarchia allora Samuele prega il signore e il signore disse attenzione ascolta la voce del popolo qualunque cosa ti dicano perché non hanno rigettato te ma hanno rigettato me perché io non regni più su di loro ecco il punto e continua come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi abbandonando me per seguire altri dei così stanno facendo anche a te ascolta pure la loro richiesta però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re regnerà su di loro quindi vedete attenzione questo è una cosa veramente allucinante cioè quando noi ci impuntiamo ci mettiamo in testa una cosa vogliamo una cosa vogliamo fare la nostra volontà e quella cosa non è bene per noi se tu ti impunti ecco perché si dice sempre che abbiamo visto prima che Dio chi è che protegge gli assilim quelli che sono devoti quelli che lo cercano che lo desiderano che lo amano ma se tu ti poni fuori tu vuoi fare di testa tua il signore lo sa che ti andrà a sfracellare che cosa fa lasciali fare avvertili tanto lo faranno lo stesso dopodiché e qui il signore spiega guarda che l'hanno fatto sempre questo qui c'ha molto di cui lamentarsi sugli sugli uomini non hanno nient'altro da fare in continuazione che abbandonare me per seguire altri dei questa storia antica e recente allora che Samuele che fa riferi tutte le parole del signore al popolo che le aveva chiesto un re e che cosa comincia a dire attenzione guardate bene adesso statevi a sentire questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi prenderà i vostri figli per destinarli i suoi carri e i suoi cavalli li farà correre davanti i vostri figli li farà capi di migliaia capi di cinquantine li costringerà a tarare i suoi campi non i vostri a mettere le sue messi non le vostre ad apprestare gli armi per le sue battaglie attrezzature per i suoi carri poi prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere sue cuoche e sue fornaie attenzione poi prenderà anche i vostri campi le vostre vigne i vostri li vedi più belli e li darà ai suoi ministri alla corte sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani ai suoi ministri non solo vi prenderà i servi e le serve i vostri armenti migliori ai vostri asini e li adopererà per i suoi lavori non solo metterà la decima sulle vostre grege e voi stessi diventerete i suoi servi allora griderete attenti eh noi siamo sempre avertiti a causa del re che avrete voluto leggere ma il signore non vi ascolterà io non so amici cari mi fermo un attimo se cogliamo proprio la portata veramente impressionante di questo perché questo è sempre così guardate che tutte le persone che si ritrovano in mezzo al mare di guai ci si ritrovano perché lo hanno voluto dicevo in una meditazione o catechesi dei giorni scorsi chi di noi anche durante le sofferenze recenti note si è messo davanti al signore a dire ma a me questo mi sta bene ma noi ci siamo allontanati in tutti i modi possibili e immaginabili dal signore ma perché lui adesso dovrebbe ascoltarci e liberarci da queste tribolazioni perché mai se l'uomo imparasse almeno questa forma di umiltà sapete quanta gente io sono parroco dice è che prega fa tanto se non mi ascolta e dice mi ricordo una volta racconto un episodio c'era stata la morte di una persona relativamente giovane si celebra il funerale come sovente accade per quanto mi riguarda sempre fuori della porta della chiesa ci sono le i corollari che adesso vanno di moda perché finito il funerale ci deve essere come dire la commemorazione umana del defunto a me questa cosa non piace per nulla dubito molto che piaccia al signore e anche al defunto per le cose che vengono dette in quei contesti che sono cose completamente umane quando va bene se non come nel caso che sto raccontando la commemorazione umana era il solito pane girico a volte un pochino eccessivo di virtù e qualità di persone insomma che vabbè poi quello che sapete un povero parroco sente in testa tutte quante queste cose dice io quel poco che so è che purtroppo ahimè la prima volta che l'ho visto se sono fatto in tempo è per dargli l'olio santo e la seconda è per fargli il funerale poi per carità ha raffrentato un'altra parrocchia sarà stato un santo insomma uno si sente tutte queste cose ma sapendole dall'interno e dopodiché dice abbiamo chiesto la guarigione ma nessuno ha risposto poi ci siamo chiesti che fine abbia fatto ma nessuno ci ha dato una risposta io rimasi sconvolto di non hanno letto il primo libro di di Samuele non si fa così condomino di Dio non si fa l'ironia condomino di Dio cioè tu hai fatto una grande ingiustizia facendo morire questo qui non hai ascoltato le preghiere non macco ci dici dove sta bella roba questo era il senso di quel discorso bella roba davvero vedete come Samuele le avverte per benino e che succede il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse no ci sia un re su di noi oh proprio in ebraico lo attenzione qui c'è lo con punta e virgola ok questi due puntini che stanno sopra il Lamed Kiim Melech Ichie Alenu saremo anche noi come tutti i popoli il nostro re ci farà da giudice e uscirà dalla nostra testa e combatterà le nostre battaglie Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore bellissimo questo qui no il Signore l'aveva sentito ma lui va l'amico di Dio e dice guarda questi sono messi in testa questa cosa ascoltali lascia regnare un re su di loro e Samuele disse agli israeliti ciascuno torni alla sua città direi che è meglio di fermarci pensavo di andare oltre poi il Signore ha voluto insomma così facciamo un attimo un po' di collazio conclusiva quali sono i grandi insegnamenti della vicenda di Samuele con questo esito drammatico storia di Anna quindi gli assidim i devoti i fedeli anche quando sono bistrattati anzi proprio perché sono così guardiamo anche se noi siamo fedeli al Signore e soffriamo tanto gioisci rallegrati perché questo è il prequel di una futura esaltazione ora nella teologia neotestamentaria non sempre l'esaltazione avviene in questo mondo nell'Antico Testamento si guardate anche la vicenda di Giobbe quando ci arriveremo Giobbe viene reintegrato in tutti i beni che aveva perso in questo mondo cento volte più di prima per noi non importa che sia questo mondo se è anche questo mondo meglio ma sicuramente nell'altro quindi questo deve dare sempre una grandissima speranza il Cantico di Anna che ricalca il Magnificat il Magnificat è un inno la potenza di Dio al suo essere glorificato dagli umidi dal suo poter dispiegare questa potenza in chi gli dà la possibilità di farlo e in chi gli si oppone lo lascia fare ma destinata allo sterminio a suo tempo vicenda dei figli di Eli corruzione e ostinazione nel peccato Eli costituito costituito in autorità non interviene e deve rispondere davanti a Dio e se veramente Samuele impara piano piano ad entrare in intimo rapporto con Dio e diventa il suo amico il suo profeta il suo giudice il popolo di Israele si intestardisce anche lui si mette in testa di seguire la sua volontà umana e si prepara la rovina perché già la vicenda di Saul sarà oltremodo emblematica posso dire insomma che ci saranno poi Davide che sarà un grande re e Salomone anche se come vedremo le loro vicende non sono purtroppo tutte rose e fiori dopo Salomone ci sarà quasi il nulla un susseguirsi di una montagna di re proprio che vabbè e queste drammatiche parole del Signore come sempre sistematicamente si sarebbero compiute e poi la voglia piagni una volta che tu ti sei ostinato e che il Signore ti lascia fare per la tua ostinazione dopo è giusto e questo nostro Signore a quanto mi sembra lo fa anche adesso che tu che ti sei andata a infognare con le mani tue nonostante fossi stato avvertito e ammonito di non farlo devi conoscere le conseguenze di quello che hai fatto bene detto questo ci aggiorniamo amici ci possiamo dare appuntamento tranquillamente alla prossima volta che vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga grazie a tutti grazie a tutti